Si inizia a fare sul serio, tutto pronto a Esernia per la prima di campionato. Domenica i Pentri si la vedranno col Pietra Monte Corvino al Lancellotta Fischio d'inizio alle 15. Si spera in una buona cornice di pubblico. Mister Pecoraro manderà in campo la migliore formazione. I prossimi allenamenti serviranno al Mister dei Pentri per sciogliere gli ultimi dubbi e per mettere a punto gli ultimi dettagli. Unico assente il mediano Lucio Boris di Lollo che deve scontare una giornata di squalifica rimediata con l'Agnonese lo scorso anno. Dunque si spalancano le porte dell'Ancellotta e parte ufficialmente la campagna abbonamenti. Già da qualche ora sono in vendita le tessere per assistere alle gare casalinghe della stagione 2021-2022. L'abbonamento potrà essere sottoscritto ed acquistato online su CiaoTicket dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al quadro normativo indotto dall'emergenza epidemica oppure recandosi presso le seguenti attività commerciali Caffè Risorgimento, Printmania, Batik Viaggi e Turismo, Agenzia Viaggi Pentria Tour. I prezzi sono popolari, 60 euro per la tribuna centrale, ridotto per donne under 16, 30 per la tribuna numerata e poi la categoria Family riservata a marito e moglie che potranno assistere alle gare in tribuna numerata al costo di 100 euro. Grazie.